l'indobre l'indobre con lucy e dita elena in dopre iniziamo conto del 51 5 4 3 2 ma ok come la vedi gli animali e lei è seduta se su quei palloni per far ginnastica l'acta una vita di notte che vi è più certo che in asta che solo che questo pallone è su un pezzo di terra grande come il pallone da più cosa che c'è una cava qui c'è miktor e stacchier che capioca e intorno c'è vuoto un burrone tutto intorno a foco dei più che vacute cocava quasi post cast capsa pasta che va sotto totalmente tanto che non si vede la fine e mi fita c'è con tante i giorni con comp e quindi lei è proprio in bilico deve rimanere lì in equilibrio perché se calze se si sposta da lì cade nel burrone io non ho scelto ma sono nata i più sono no vaga poi signori chiamato a smatni e tanda ho fatto un occhio chi dà l'autorizzazione dai ci posso farla nella stessa tacco ok diciamo al burrone di prendere la sua reale forma per lussi c'è visti da lussi sono tutto intorno sono come lei appaiono come se fossero dei fantasmi tempo sta c'è la lussi o no cosa che non sceglie tutta volta che duca o sub smarrò con i denti molto lunghi in maniata che ha portato che sembra e a guzzi guardata che salssona sull'entità i terri che anche ci sono che ci è stata la terra si sono le sue entità eteriche che la interferiscono quindi ci sono questi fantasmi c'è risolta duca lei appaiono come fantasmi perché sanno che così lei si spaventa ma c'è una scelta cosa è una conto capo viata un certo sposto che ben dice paura ma in realtà dietro ci sono altri tipi di interferenze la pratica è stato in mindokami crea un grosso io interferenze vediamole allora c'è un grigio e sarac non se le noide farino un rettiliano un falconiforme e che c'era italiani falconi ok edl è stata scettista 3dl mentali è stato a mentana di livello 5 e non spacciamo pianta ecco una di livello 4 e non spacciamo parte che è una di livello 3 e non spacciamo sciacceco 5 ma tasca con quella di livello 5 e quella che le crea questa paura è stata spacciamo pianta ecco testa è stata attura fa voi e un'altra è una paura tipo terrore nel senso che la paura di c'è che le viene se cerca di far qualcosa ma è una paura che ha sempre ce le agisce con la paura toni e stracters poi avrà che una moto di strada espressioni fatte col terrore con la paura che conosce un verso la reata storia stati anche stracca 4 è stata spacciamo carta con quella di livello 4 negatività vedo proprio negatività collegata alla negatività è stata spacciamo parte con io stiamo sanas negate conosce è come se ci fosse quando lei inizia un'azione come se ci fosse una freccia che abbassa le vibrazioni di un tot sempre che da una giornata sera aperta la novità con questo shower i tasti c'è anche la vibrazia sempre un tono più basso cosa soia che c'è otto ogni ora in conti e grazie a me lo 3 è stata spacciamo c'è 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 non ho creati livello 3 aspetta un attimo alzo un attimo la vibrazione perché era chiarissimo prima adesso è sfuggito cosa è quello che era il trailer c'è qualcuno che ti afferisce sta cercando di sedere poi due di ieri no ma se si è però all'anno ma si è potuto fare le braccia sta momento trusca ok ok a posto allora quella di livello 3 come se la facessero agire come se lei si sentisse piccola quindi sempre in uno stato di come se fosse in difesa no quindi in uno stato di posso dire come se si sentisse piccola e quindi si atteggia in maniera tale che le persone con lei si comportino come se fosse piccola ecco è stata spacciamo c'è che la persona di stacca cioè stacca malenca i best brown ci sono impianti mentali testiamo implanta mentana se c'è questo impianto mentale che è collegato soprattutto all'entità di livello 5 gli est implanta si è stata spacciamo pianta che nella sua testa è come se accendesse proprio una spia di allarme no quindi vedo come se si accende una un insieme di impulsi elettrici verdi così non c'è cosa palla facita con la lampa attacca all'armità si fatto come color gel on vedo che ha paura a 360 gradi niente che straccia c'è stata scelta stop mi fa con i ci sono impianti eterici c'è due qua sulle spalle a una destra e una sinistra sono due implante no per ora mia ma poi uno libero dell'ombelico colline in fronte la facoltà e poi due sopra le ginocchia come se fossero due fasce intorno alla appena sopra il ginocchio intorno alla gamba e fa implante na nato per fama scola neppetà che dicevo paschino con la nami 1 ad essere una sinistra proprio a cosa servono un totaco scusa a tutti e 5 servono a tenerla la vedo durante queste abduction che la tengono sospesa attesa attraverso questi impianti te implanta facendo te cosa che non lo sapierai oltre un profanzo l'alto l'experimento stata implante ma io mi sono stati a savia scena e durante le abduction le creano tipo un campo intorno il track c'è un profanità implante crei un po con età che pole che fa sì che le sue la sua energia abbassano le vibrazioni e cercano di diffondere all'esterno del suo corpo la sua energia obbligare i miei fibrazi starai a un scemo rossi anni ci fa stavano anche a foco e ciao la sarno tu hai visto sì dimmi e da questo è una specie di teca rotonda cilindro trasparente creano questo campo con la sua energia che è poi li succhiano e da questa ca gablota va che sta che c'è l'interna di ovvio la stessa jones energica potenzialo staglia gablota in caplocca la blocca ok tu hai visto claudatlas ma sì forse si è sette anni e c'era una feceva ferma attima finora non mi è nuovo il titolo non mi fratelli wachowski e sorelle wachowski molto molto lungo durava tre ore e mezza forse dell'ante delle nuvole quando è detto impianti appesi c'è una scena molto cruda di donne senza testa appese su delle catene diciamo di montaggio di smontaggio e usati i corpi usati ovviamente per i fili lo siamo che sovra tanta capota una stena e con ciò che era un femminino elena bocata ma che scopriate per scurri a una cosa cosa che sono anche ci stanno no sa che devo vederlo ma non l'ho visto poi alla magnifica vasta è stato fermo ma ti risuona allora non vedo nessun caso non vedo che usano il corpo vips pat con i fili abuso faliccia però ecco come se riuscissero a prosciugare completamente l'energia facciamo non ci si progettava una energia e quindi poi russi esce dalle abduction che esausta ipoteca un prova tania non si è spiegato con ciò non fa un po fa nostri anarchi completamente scarica su covice o prossimo sanar fanno fanno degli esperimenti in altri posti come dici tu con i corpi da che esperimenti ha corretto muovi lucia ciao in fiesta cina non abbiamo una scuola il fin misto quello che vedo è che è come se fosse in qualche maniera quello che hai detto tu il passo successivo all'effetto del cinevac tazza video lucia l'enamo che c'è tesa come colline e tap il psicologico effetto sta pavac ciò è nato rimorti facciate con smart si c'è un passaggio dove prima di di morire chi è civaccato diventa quasi come ne vedo tantissimi che diventano come zombie questa questa che con la inetà bisani in matassa basa scopas covano usate perché tab che c'è stai scendiamo la giota che lo zombie e in quel passaggio di usano corpo passaggio tra zombie e la morte usano il corpo nel modo in cui detto tu in ottenere tappi mezzate ma zombie momento mi era da no sabato va a certe momento cosa fa non c'è volta che spesso che tolte o pisau esce e tagliano varie parti del corpo non solo la testa ottene euro per la testa ciava a volte le mani e volte dei piedi giustamente ogni cosa mi stop premesso che i guaccio ski sono nel sistema e sanno delle cose e le devono dire nel film da quattro ans che sono staccato la cosa stiamo i propri film informa faccia parla che sprava nel film questi copri vengono usati per creare del cibo che veniva poi somministrato da altri schiavi te fermi e tante ciao a stavere cosa stefane una posa fini e clare che sta maniavole nico veniva ma sotto forma di corti formi veniva tritato e poi usato come cibo ciao suona cosa cosa stefane copposa viene ma io vedo che sostituiscono delle parti di cloni vede cosa sta in poi anche con parti del corpo umano per vedere se questo fa sì che ci possa essere la ps in questi cloni cosa sta in poi a testi ciao a cronacci amiciava luci e sopra sabato porta che non sta stampini o vai c'è tanto santa che alta che lo crono va bene va bene i due cretini ci sono ancora no no vabbè non traduciamo neanche non hanno importanza nome del progetto di lucy e che è questa sarà proietto toramo pianta esclusi trasmutare trasmuto faccio perché la sua energia viene assorbita e poi viene provano ad inserirla appunto in un clone o nevasi nero cast poca niana con niente a sta si porta una stampina trasportavano da clona vibrazione gli accadesi di brazia lo si 8 76 milioni o sempre c'è un accendimento il milione consapevolezza passiamo si fata mostri 97 per cento g20 sanciata in prozant psp e provano vacato usato 37 63 suggesti sia tanto fa ciao a terra cima nome della ps i miei addosso car kiss car kiss car kiss car kiss che vuol dire stato snaggia mi sa vedere tipo una pianta grassa spinosa poca su emi e con la scena trascolta io col tasto cactosa nome della p e i miei du khani e ciao a terzo nago pallone 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 piuca piuca perdite precedenti perché vedete che sto imparando il polacco il padre 3.469 sette chance cittare stasciato di san james o dubbi c'è noto che sono stati posto posto ma potete avere avete quella cosa di dubbic 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 cervello però tanto safan e comosco 8.9 facciano che c'è venti per tanta va bene i valori sono da fame sua vita venne che tras una vibrazione che più bassa non la vedo da tempo tac nischi e vibrazione rarissima la vibrazione sotto il cento per cento e di una frequenza si va beh una consapevolezza sotto cento per cento che non vedo da tanto tempo poi siamo scelta ma steppani arresto sono stati appassati con che troviamo e tanta tanta paura io ho gron o gron stracco chiamiamo la paura tavese di metan strac no luci ovviamente come viene la paura gli accionati tra c'è una entità mentale collettiva paura nel collettivo ma è stata mentana siano da nostra strada sì ecco si questa specie di cupola enorme scura grigio scuro sta cacciando sarà copua e crea proprio l'emozione e paura si parla coppa e vedo questo la paura la vedo come se fosse un enorme nuvola incalzante rossa mura caso riesce tanto stracco caso riesce alla mia cota cazierca servona comora che solo a guardarla si si può sentire proprio l'ansia la paura che crea c'è il caos non so se ne coppia cianiano ci sa che ne è poco il strac c'è l'istinte di andare lì e accalmare proprio la paura perché poi avessimo stato in stanza vata un po testi come un rai da un construct a cuspo coach bene facciamo un po di esperimenti entro nella scena con una maglietta bianca la tolgo anche un pennarello nero in mano stangenza per i mantoni tarne pisa e sul davanti scrivo io non ho paura il piaccio non sa piaciuto io sia ogni boia e sotto l'infinito a portata ma che ne scontano si chiedono me la nostra firma mi metto la maglietta e vado a trovare l'entità mentale collettiva paura cosa cosa non sapete anche sul capo non è vita è una spot cani è stata con l'acto e volo così c'entro dentro esco entro esco entro esco e faccio tutti i buchi che voglio sapere cron salata non sape cosa da scoperta e rapetta che tant'ora che cosa è che tracorta è così taxi c'è cosa vedi ma cos'è un cappello una cupola si una cupola tra che stasera tra il copone va bene adesso la trasformo in una nuvola perché mi piace di più da trasea un trans formule fatta di fumo che colore a questo fumo ea che ma color tandem grigio oscuro c'è lasciare entro esco dalla nuvola a volo faccio quello che voglio cosa tante cose strada da te come ora da foto nera piattaccia tanto il resto dentro la nuvola ingabbiato fregato appiccicato come una mosca cosa stai a tante cosa capso con leon e doni perché non ho la maglietta bagna mamma con fuori che se il fatto lo faresti anche probabilmente senza la tratta poteva visitano finire best eco solchi ok allora chiamiamo lussi con una maglietta bianca un pennarello nero in mano tutta rasa poi ma lo si abbiamo con sol com i carlam flamastra vediamo cosa mi fa parte ma troppi ok scritto solo la maglietta davanti io non ho paura e poi ha fatto l'infinito una pesca vana consulsa gli asciugni e boia snack nel conto nostri pot spada mi forse va spavolta la scioglietta un coso che se l'è messa e poi che fa e inizia a fare quello che hai fatto la differenza è che è un po rallentata perché ha è agganciata lei l'emozione paura quindi questa enorme nuvola rossa eganciata ai suoi piedi quindi quando lei va fa un po fatica ad entrare uscire robita quattro stavano sotterro di tanti servono il cuore sta con riuscita un gioco ptastacchi sposo bardo pavone poi mi faccio nella natale spavolta una patata o tutti stracoli sta proprio un po con tono andate il cuore ma fatica ma riesce strudente robia leuta il sito se ci mette solo più tempo tag sai muovere indusare in vento il tasto va bene chiamiamo tutte le pièce che vogliono venire cosa fa da voi ma fischio scatto la quale che sono interessate in parte o tutto in pago tutto in parte dalla paura di quelli che si presentano riguardanti riguardati dalla paura e spesso a testo scrittura tante serie di aiutate testa e dividiamo in due categorie poi germett sapendo che categoria quelli che non hanno trovato la fiamma qualunque categoria e quelli che hanno trovato la fiamma qualunque categoria un di tre è la categoria toccicurale si sfoibli stato può meno in altro che categoria toccicurale analisi di complessi nata copromiena punti con la maglietta bianca il pennarello nero sappiamo un console con internet pista che ok sappiamo tutti che cosa stiamo per fare chi vuole farlo lo fa sentendo prima queste parole la vita è solo un gioco un esperimento esperimenta il nemico di questo esperimento nemico principale non è il rettiliano govne govne brock tani e stratelli anni o qualunque titete ricca cerca cose che non è stata eterna non è qualunque entità mentale mi resta verrà che non è stata mentana non sono le conseguenze impianti conseguenze impianti fa il fatto di essere o non essere degli addotti fact becciato a mia beccia ho provato non dipende da nessun capo come lucas o dino zeus mi sarà giocato sa fa tempo lo casco sa us men che meno quelli del secondo universo a tempi a te che cosa scatta così donne satana lucifero moloch tutta cosa che da una satana ma lo ha lotto farà ma quello che blocca a noi che siamo dei all'attata nata la parte blocco gli stessi ma bocchian tacata e traducilo quella cazzo di nuvola che avete lì davanti stata questa clienta con un racconto ma c'è stato la paura strac prego allora allora quelli con la fiamma lo fanno con diciamo più più forza e più velocemente certo già dalla cifra e può miglior bianca scelta cosa viene fatta con energia come se la loro maglietta fosse più luminoso bianco più luminoso rispetto a quella degli altri da capirco solo che parte di tacchi ai spazi specialist che cogliassi in sciacca color bierino sta dentro che il gruppo gli altri lo fanno ma ci mettono un po di più e meno forte la maglietta quindi ci mettono un po di più possa stare agro la testa robbia le 6 mo in tutta la sua barata un tavone ismini sono ma il fatto che sono venuti dopo che dopo il richiamo alla fact testo testo le potenze fanno fassi che loro entrino già in azione quindi si lo fanno ma ci mettono più tempo ecco stanno tolsa di sostanza la casa of the system poi and giovanni al 6 momento che in situazione ok c'è qualcuno che conosci che è arrivato e che fai i voli dentro la nuvola felice e contento c'è la tassa piazza non c'è nata fonte il cuore e no no rimane c'è una persona che conosco maria ma rimane fuori come se volesse entrare ma non ci riesce ancora io sia nostra patrono snamola questo stai da un po cune ne potrà fietta e vai stavolta vediamo la d'esempio cosa gli manca caccia che ibrac che si può dire sì è come se gli mancasse sotto sei tipo quella rete quei materassi dei di funambuli quando fanno le acrobazie li che camminano sulla foto c'è la rete pochino un autoresce oggi acrobati facendo linea per a cui intanto che sciat che ho cron e post foto gli manca la rete sì però poi avrà qui o sappiate sciat che cioè un piano b cioè che spanda sì qualcosa che gli assicuri che non muore se cade tac saperli sono ogni anno non so che devo pagna ma è un gioco alla testa cosa bava si può morire nemmo stato uno sacco si può solo giocare il gioco non ho stato con grazie a farla del burrone poi se la testa passi quindi ha paura cioè poi c'è quindi non ha messo la maglietta tania davosate con solchi no non è neanche entrata nel campo da dove prende la maglietta niena vattene ora un certo amminista che dice piaccia tonco solca non si sente un loser c'è ne trovi stata scarsa che il user sacranea anche se trova tac piangete l'uso di sé quattro è stata cosa usa la cena trova che come lui come quanti altri io io sta che con 125 milioni sono stata la vista pinzino li vedo proprio in piedi sul bordo di questa azione qua sto io non ho bisogno tanto ma io c'è avuta c'è base che hanno stati avanti questi 125 c'è anche lussi gli astanta slussi no no non si già prima con noi l'ha fatto fatto si 125 milioni hanno in tasca un palloncino sconfio tastata di sapiens milioni off ma è un terrestre che segni più etica può spaziano un paio e il loro personale uomo energia gli astari ho sapete logica trova che energia si vogliono se lo gonfiano e se lo abbracciano gli stessi sono con una pompa facci ma con coppia turismo biancico la persona che aveva preso ad esempio lo fa la sua base 4 dopo la rispera abitata se le queste si alzano lo fa anche lussi in questo momento ma non so se che brazie era abitata cosa lo si dai 876 scarsi milioni la alziamo a miliardi e miliardi torniscono vibrati e spot on co se si può trasparsi a sacco da fiolo fiolo miliardo a quanto sta lussi di a caester a svibrazione si 5 miliardi non si è sentito 25 vado stasenti per 5 miliardi miliardi si è saltato un attimo ok quanto sta la persona campione a tante ha messo ea comma vibrati su tanti sacquata 3 13 che nasce miliardi sono assi miliardi si butta o no già faccio ne si tiene però l'uomo energia l'ha messo sotto come se fosse volante se tacca la potenza lo sapete con logica nel che tampo spot a meca attaccata come cronata che fanno da fanno la piazza tutti i 125 milioni fanno questo salvata crocato il nostro pasto faccia piange merion of robito se c'è chi si chi lo usa come se fosse un palloncino qui si appende tecnico uso fai a molto ecologica e cosa con più acca cronata c'è chi lo mette come zaino con il paracadute necto show mi stai ancora sapendo apprezzata stelotta che coprezzata casa da spada crona e chi si fa trasportare ai stagni trovare un saposo natano di chiusa no città ministra lo fanno tutti maglietta pennarello scritta io non ho paura e vanno a piangare la nuvola era bianco sol cas la pista merita un tango l'avecita un comora e fanno tutti ricordiamo a tutti i 125 milioni lussi tutti quelli che guardano il video che l'uomo energia lo creiamo noi non lo creo io sapò mi mette un scherzo che mi ha fatto questo pieno milioni la carta stanza per croia logica neaco croia e tutti questi hanno preso coraggio diciamo aumentando le loro frequenze con le loro frequenze e tra ci fosse migliato fa che vibrazia e poi che può non fare le vostre vibrazia sì un altro modo per dire che siamo i creatori di tutto e ci giochiamo il gioco come ci pare piace mi sono raggiunto messa mi stai creata ora mi grame ton gratta che ha creato a merca ma quindi c'è qualcosa di reale e qualcosa di non reale stai strana e tranne il reale è il nostro potere divino creano e snascia bosca moz e la frequenza e fibrazia il reale è la paura anni reale ma nirani extra bene salutiamoli tutti abbiamo lavorato tanto sulla paura finalmente oggi abbiamo il quadro completo di lussi vediamo un po di cause esoteriche i viteri ma c'è l'uso di trassa che il caffè che il capso c'è stata rete ma causa sottereca di tante operazioni subito sotto una data regionali c'è una copa razzi le vedo io le vedo tutte collegate a queste abduction dove lei appesa video chiamato se mi ho provato a nami tank c'è una vicisa che sono a pochettro se è come se mettessero degli impianti temporanei che usano solo qualche volta poi lo sport elimina non ne mettono altri perché come straccio teccato a nostri squadari e tempo stava per un implante a porta mio primo io causa circa delle delle tre volte tumore c'è nata 3 ma non ho fatto foro ascerata ti vedo più che c'è una causa diciamo indiretta nel senso che il fatto che le sue interferenze fanno sì che lei ha le vibrazioni tenga le vibrazioni basse molto basse totale veniva sposerà di off the shop at con tassi che interferenze c'è ora una posciata spraffiamo c'è una ma bordo di schiavibrazia crea questa negatività emotiva e crea tornita che negate una emozia che fa sì che si formino questi tumori al consac formati consacrenze da profatico adottato adottate con nuova foro insulino resistenza insulina o porno mi appare come come una barriera nel ciclo dell'insulina cos'è la mia cata che barriera secolo insulino fa sì è come se vedo scorrere vedo scorrere il sangue e come se ci fossero delle barriere nel nello scanel matto metabolizzare gli zuccheri poi nella sabbia crea figlia una fece che sta che barriere si coge o metà polis a fanno allora in eterico e come se vedessi troppo delle delle chiusure dei vasi nel momento in cui ci dovrebbe essere appunto gli scambi chimici per metabolizzare lo zucchero non c'è nato in evitata che cosa mi è cascata una cegna come in cegna finita oggi sta protesta metà polis a fanno articolazioni problema se stavamo e questo questa sua paura che fa sì che lei debba sempre stare ferma lì non si può muovere se no cade nel burrone diciamo cadeva per stan strax testa nel potente cova e già non diceva sceglie signor ho ma un po c'erano razze stracciarono va che spada da te la pastica crea questa continua sensazione di insicurezza e instabilità e tappa foto venite che c'è anche auto c'è braco per noi sembra con stabilo nostri perché ha fatto sì che le articolazioni si indebolissero cosa che fa insieme a testare sono sfaccia tarassoni un po come se fosse un astronauta la nel vuoto astronauta prusni sovrappeso nata vaga questo l'ho già visto prima c'è questa cosa che vedo spesso quando c'è sovrappeso questa sensazione di vuoto che si crea che deve essere in qualche modo colmata come se ci fosse un meccanismo come quello dei polmoni con l'aria no quindi pressione negativa che crea un vuoto che deve essere riempito da che provano dopo invece che riempirlo con l'aria e come se dovesse essere riempito col cibo a tempo sapato cosa viene bassa energia mischi facciamo enerchi sono le da ciascuno che ho provato nia c'è proprio esausta data d'acce lo stampo un po fa nasa narchi che sono il anami chance 2 la settimana fa nato e genio abbuffate compulsive composterna pia tania se si è proprio quella quel vuoto che si crea quella pressione negativa che si crea che deve deve riempire lo spazio vedo in eterico c'è proprio uno spazio da riempire tra questa post cata c'è stato una caternata città che una caterna e vedo che questo spazio creato da quando era piccola ma tos fa il 0 2 vedi cinzia vedo che come se ci fosse stata allora in eterico mi fa proprio vedere lei piccola qualcosa che mi dice che stanno una posizione terrestre ma un gesto anche poi vedo suo padre mentre il suo padre si sposta quindi si allontana si crea questo vuoto che lei colma col cibo evita e tambo bocni o ita ita noi c'è spaventato oggi o dalla c'è il tampo scattarono oggi ho nato io sono uscita panici e tania come se dovesse colmare il senso dell'abbandono di suo papà e come usciava tra piccita c'è stato molto c'è ma posso tagna contro tagna nostra night e quindi tutte le figure maschili nella sua vita che sono sparite se ne strana trattata altro che strana che stanno scendere c'è cosa che resta moto giri causa esoterica dell'ansia sotto naso trecina anni poco io flanco entità mentale di livello 5 è stata menta al nostro siamo pianta ecco ipersensibilità nata rossi forse entità mentale di livello 4 è stata menta al nostro facciamo parte con difficoltà con la relazione nella relazione con la madre sopra relazzi as ma mo lei si atteggia sempre come una come una bambina la mamma si atteggia lei come se stesse parlando con un adulto ai mammas con lei mufi tonità che abbiamo fiumato sapete rossi uguali invertiti sì c'è rio sforza marola stessa domanda per la sorella tasta ma petani si faceva sgombra la testa o strano uguale come se lei con le figure femminili a lei vicine agisce sempre così in tutte le tante san mani e sono una sascia chiamata in sposto sui schemi figurami in schemi faccia stessa domanda per tutti e passano petani si faccia un relazio con gli altri schemi no allora verso il verso conoscenti o persone che non conosce lei si atteggia invece come se fosse una bambina e quindi in questa maniera in difesa so patco in una cosa ho notato poi c'è stata che vuota con pes bronno monte franco ok brevissimamente benefici o problemi o niente dal corso di teta healing per luci lusi tra scorcio troppo a corsa teta healing totale che si può fare che possa torna allora diciamo che in sé la tecnica del teta healing è un buon strumento per imparare a utilizzare le proprie capacità nelle altre dimensioni con gli occhi più arons tetta healing che sta per una gente cosa stefania vedo che però nella maggior parte dei casi le persone non sono consapevoli a tal punto da da far sì che non vengano interferite alla vita sovienzo è stato niente la tela sia domenica l'ultimi ab e ci facciamo non c'è più interferenze c'è con questa tecnica si è tra proprio in diretto contatto con tu che le altre dimensioni tutti gli altri tutti gli altri esseri viventi di tutto il cosmo tutte le entità lo sappiamo sono tra i tecniche codice la speciale nei contacts che mi insegna rami che mi è stata mista con tutti i disincarnati in tutti i piani che mi ha fatto a mio software nasce che facciamo ma la maggior parte delle persone che lo fanno non sono consapevoli dei canali che aprono tecniche nesca domate cosa che rayon parla ancora del canale tra interferenze e quindi vengono interferiti spesso e tra stop a dare un passino fiaro interferenze posso chiedere stessa domanda per quella che ha inventato questa tecnica è una pulita l'ho visto volevo dirlo no infatti l'ho visto prima che di che dita lo chiedesse fai a fai a no se si viana gli hanno allora quando quando l'essi accorta di poter fare questa cosa era pulita e poi quando ha iniziato a insegnarla l'insegnata attraverso delle interferenze e lei prende tutte le energie delle persone l'approccio che deve esattava scesare ma basta un tecnico a pagare testa la stessa un paio invece interferenze ipotam ha fatto abbracci all'arriotto e frischi costo poi ora uso avanti tecniche ok tre parole metodo l'alto metodo che ci ha detto non possiamo dirlo perché nel caso dentro cametta trompe tavaro si si o no stesso meccanismo identico da insieme almeno forte e meno forte l'apertura dei canali quindi un po meno importante ecco pensando a quagni e meccanismo all'alta otterrani e cannau otterrani c'è nata nella catena interferenze swapshaft al suo parco cause sotterega degli sogni in cui sogna di volare e piaccia nata per la snuff lo stimo filoso signori o latano era maggior parte delle volte si accorge è come se si svegliasse nel ritorno dalle abduction santa momento in classico patco che è una bugie scerpa ho trovato anni cause sotterega dei sogni in cui sogna il marito defunto sono stata recina snuff o smargo amazon ma li vedo che è lui che arriva ancora legato a lei non si è andato viene proprio da lei avete già un sacco di tanni so che non sanno e tutta i miei anni ha fatto altro con strana e ne abbiamo portale aureo e lo chiamiamo tot forse portando sotto e non sa poi ma chiamiamo anche tutti i parenti di tutte le generazioni di lusi di terra se strada di marcia scrive saracina lusica un po con l'anirovnias quanti sono i richiest 126 stava di success il marito si presenta poi la riusciamo se tac e sulla terra legati la canzone da gemi si è legato a lei l'età che stanza nei doni le vuole dire qualcosa c'è stato spaventato continuati a chiamarla e continua a dire che non mi ricordo continua a dire non mi ricordo il move a i movi e roffnias mia pamientam cosa fatto tutto non so dove sa chi è successo ogni leggera che si è santa i tuoi anni facevo con il nico gea dico to time o più coca fish riprazia informatica sfida most allora visto che era nel loop era rimasto in quel loop lì è come se fosse sempre un pezzo di disco che torna indietro non è questa che non sapendo se ne aggata volta che in casa poeta adesso si rende conto di di come stanno le cose di come funziona terrasse vg maia metto friscato funziona e chiede scusa a lussi per essere rimasto lì a bloccarla e prasce lo si fa battaglia già tanto capo tam giocato coppa cova a intercerirla perché non avrebbe voluto questo e farlo in sancione tasso interfera rosneano a nini e ciotaco e pure delle un'altra cosa vuole dirle che l'ha amata tanto il testo profetito la parte di un coca va bene lo salutiamo allora e lo lasciamo andare con gli altri nel portale aureo da posto che noi ma con gli acuta siamo la frase in mente a portarlo se c'è qualcuno di vecchie sessioni che aveva detto che ci pensava e sarebbe entrato nel portale aureo più avanti vuole venire adesso che riesco a spazzarmi fra se c'è stata sanare a un attento face portalo i taras ciao patonico first ma intendi direi che abbiamo che vediamo noi o in generale che arriva ce ne sono alcuni che è come se stessero tutti non c'è certo cosa ci arriva traccia votati alcuni no ce ne sono due che che non che non dicono che non è ancora ora che vadano est fuori caos crema non so che stai niente al casa per cance e poi ce ne sono 27 che aspettavano questo richiamo i esercizi 7.000 costo c'è cari nata bel canvassati spieghiamo il portale e andiamo da luci tasa meccana porta e ciò facciamo da luci chiediamo a luci se vuole andare al cluster sapete meno se c'è 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 da castra se se adesso la vedo molto più prima la vedeva un po così chiuse incopita se la vedo molto più distesa e più allegra più lucente cioè si può attacca scolona attacca mi aspetto per il nostro io a 30 volta che ha partito farta e portato cassa bene vado a vedere come sono fatti i suoi contratti e li toglie le butta in un portale definitivo ogni cosa parte a conferma maia nei contratti che succeda a portarlo da finita un'anca molite confece a ogni vita è un braccialetto fatto con tanti colori card se c'è una forma branca let che faccia vero colora mi sta buttando via adesso chiuso portare definitivo la sua stata fisca e contract esame cata un porta alla fine interna all'eterno un qua o mi esce metà un piano da torno ho fatto insieme dalla fatara io ad eterno però fin asciolta teorea avatar reitano di etnode per non se messo bene come si ceva aiutano con queste nuove condizioni ci sono ancora tutte le cose che abbiamo visto finora c'è la tecnologia farà un cartasso ma che colpa che c'è struttura femmine risposta snelli no non c'è più niente ma niente interferenze la paura strac no mia ma la t shirt io non ho paura attacco sul caso ma più famiglie poi c'è sì quella se la tiene lo tiene ancora vuole ancora tenerla nel caso dovesse fiorare un pochino tact a un corso lo che aspettano a circa sapere fatto sommati la ciascata patac assolutamente d'accordo il caso la tiene in tasca da tirar fuori al momento del bisogno chiamata un corso che sani facciamo che neanche pangeli posso può facci o indossarla sempre rispettiamo se non sarà trasmetto la sopia si vuole fare vuole vedere mettersi alla prova a vedere quanto riesce senza la maglietta e pian piano allenarsi a metterla sempre meno questa sabato jack preparati per scosso che questa scelta mi ci piace ci porta music strassi squadra c è vero che una volta che ha imparato è indifferente che la mette oppure no ragazze che cos'è una utica tutta comprate ma statane ha già fatto un tango sul cavolo centenio ma finché siamo nel gioco non si può prescindere dal gioco quindi si può tranquillamente indossare i vari nelle varie collezioni di commenti stupidi ai video che stiamo collezionando c'è basta con questo inglese mamma mia questa pot nasce amici siani sono coppie commentato al sistema anche il scheme o come si rispondere a un mercato e rispondere ma fatevi una ma fatevi una vita voi vi toccate il naso che con la pnl vuol dire che state mentendo potete smetterla no sai dobbiamo fare una sezione gadget magliette costrette cose scritte listi commenti potete smetterla ma se ci sono stati ma si metta con una serie con solo a questa pista ma si è stata oppure un altro che ha detto che nell'indagine ringraziamo troppo spesso gli sponsor a questa caccia nella città strax e stessi patata e che magari fare le cose gratis sarebbe anche il caso ancora tra l'apprezzo fatta d'arma se loro io purtroppo euro al mese la faccio e io purtroppo non ho risposto dopo 1120 video gratis il coraggio punto di domanda ai auto vedeva un po te lo per lo stanno una grania ancora voi gratis va bene come ma nuova frequenza ea che sarà se grazie a valosi 118 miliardi stascia minato o cammino e poca miseria vibra e consapevolezza poi c'è scelta la nostra terra 119 per cento stagione che nasce però tanto psp addosato con una vaga 67 e 33 se si siano sia tanto stata razza vite precedenti in alito passate 2225 dovate scienza testi e andrò di scienza per bello però tanto giovanna con musco 9.3 g20 cina che ci ha pronta tutto vuoto non c'è niente c'è più niente mia mani messaggio finale e quanta faiata masciata rosina skype fai tutto inizia a fare tutto quello che che volevi fare ma che non facevi per la paura sacchini robert scottato c'eropi c'è tra con gli esaginava scanto nostrack adesso adesso puoi farlo allora quello che mi fa vedere è lei che inizia come se mettesse giunto il progetto cosa imiterà mai che c'è proiect come ce la vedo che scrive il suo progetto e sapi storia tra tanto al proiect e mentre scrive e inizia impara ad alzare le vibrazioni di commento che cosa che storia tavolo 36 ha conosciuto i brazzi vedo mi fa vedere il colore azzurro a cosa che mi color nipieschi quindi la vedo che va anche all'aperto cosa limitata oggi nasa e si immagina proprio di alzare le vibrazioni con l'azzurro e tannato non dava usare la propria stagione si fa e vibrazia usava lanciate con coloro nipies che eco e man mano si allena il trans posto la psdc tanto tu è la maglietta puoi fare tutto gli edo siamo veteras smaltano con sol catatrasmo su scuola puoi creare quello che vuoi ma lo sapete che era partita torta mi fa vedere che può essere utile per lei viaggiare qualcosa io mi testo sarà dopo abilità nei poteri safania entrare in contatto con persone di vari paesi e cosa mia prossima grattere contacto sasabami sin cryo questa cosa qua da che cosa va bene bilo la vick ad eterno ma lei sa fare già tutto giusto uomo energia c'è ridostava più cosi che la faccia d'eterno un via che la faccia trova che energia si crede da fatti prima sì sì c'è la fiamma c'è la fiamma ma che ne si posto come ne lo vuole e lo vuole cascata vedi c'è spuomen ma ne pentava lasciata un po caso con fanta con ce n'è lo si interessate attacca né pomini da perché non vuole qualcuno che non vuole saperlo allora è nel passaggio nel senso che prima era come se fosse bloccata con il suo nel passato con i suoi con il suo marito che è morto da tempo ruota che c'è da una buona blocco fana e quindi adesso che le ha dato l'occasione di entrare nel portale auro e si è sganciato da lei il terrestre potente faccia tanto teco portalo a più giorni è nel passaggio per focalizzarsi sulla fiamma il terrestre è stata che metà più famosa scopi cena posso che fanno uno spot canio teco pomiene a sfoglio e quindi in questo momento è come se fosse è come se fosse in creazione tra virgolette il momento è nata che la potenza creativa e all'inizio dell'intento e deve metterci più deve allenarsi ad alzare a centrarsi di più ea focalizzare bene l'intento e tanta intensa la nostra merita per la pacchetta fa ma è una uscita la segna quando c'è sta buona per nancy e poterciarsi i brazi senza citano intensi anche spot castante copominia comunque nel futuro la vedo nelle sue creazioni si invita a passare su questi video già tempo ok ho finito